mi chiamo grazia giua lavoro alla narrativa straniera delle inaudi buonasera a tutti ringrazio il circolo dei lettori per questo incontro la mia suggestione per questo incontro è stato lo sguardo delle inaudi della mia casa editrice sulla letteratura americana pubblichiamo nella nostra linea editoriale veri paradigmi d'america voci come quella di philip roth di paul oster di don de lillo di marilyn robinson che dell'america sono veramente voci di univoche evidentemente il loro sguardo dal loro sguardo non possiamo prescindere quando parliamo di letteratura americana e tuttavia in questa in questo particolare contesto storico all'indomani delle elezioni americane con la vittoria di joe biden e di kamala harris è indispensabile soffermarsi su quelle due macro spinte politiche culturali sociali ed etiche che sono state da un lato il movimento del black lives matter e quindi la sempre risolta e oggi particolarmente inasprita questione raziale e dall'altro il movimento e anzi la questione altrettanto risolta dello squilibrio fra poteri dei poteri fra generi e quindi l'altrettanto risolta dicevo questione della delle donne la questione della scrittura femminile non solo della scrittura e quindi confluite nel movimento invece del me too ecco con queste due direttrici in mente il black lives matter da un lato e il movimento del me too dall'altro due sono i percorsi due sono le tappe del nostro percorso recente sulle quali vorrei soffermarmi da un lato il romanzo di regina porter i viaggiatori che abbiamo pubblicato qualche mese fa nella traduzione di norma angodetti e dall'altro il romanzo invece di me di mary gateskill dal titolo questo è il piacere che pubblicheremo invece fra qualche mese tra un paio di mesi nella traduzione di maurizia dal mondo regina porter è una giovane drammaturga oggi residente a brooklyn ma in realtà nata a savanna in georgia la georgia mi piace ricordare è uno dei cinque cosiddetti flip states quei quei paesi quelle quegli stati americani che nel corso delle delle ultime elezioni sono passati da dal rosso trampiano della precedente legislazione invece al blu di biden ecco quindi da questa georgia ambienta regina porter la sua storia da questa georgia la fa partire in particolare da una piccola contea della georgia immaginaria che lei chiama buckner county e e poi da questo spazio il la narrazione si si ampia si ampia i viaggiatori è un romanzo è un'opera prima e nel suo esordio è un romanzo poliedrico un romanzo polifonico con moltissime voci un romanzo molto ambizioso per l'ampiezza della tela su cui si muove da un lato il da un punto di vista geografico e da un punto di vista temporale la storia si muove fra la metà degli anni cinquanta del novecento al primo decennio del duemila in particolare al 2009 il primo anno della presidenza obama con tutta la sua carica simbolica di rinnovamento che questo ha portato e su un piano spaziale dicevo si muove parte dalla bucknell county quindi c'è un movimento da sud a nord ci muoviamo dal sud della georgia e poi ci si muove verso verso il south bronx verso long island e poi si esce dai confini nazionali anche dai confini degli stati uniti si va in europa si va verso più parigi berlino la bretagna dall'altra parte si va in vietnam quindi si seguono alcuni dei protagonisti verso quella guerra che hanno partecipato a quella guerra quindi la il la razzo che si va componendo è molto ampio perché le persone che si muovono i viaggiatori che compiono questo viaggio insieme ai lettori sono molti sono alcune famiglie diciamo alcuni grandi ceppi neri e bianchi che si intrecciano fra di loro la storia prende le mosse dalla figura di di agnes miller una una giovane donna nera di buona famiglia figlia di un predicatore nero la quale si trova un giorno a una sera tardanotte in realtà a tornare in macchina con il suo fidanzato claude a casa da un concerto passano da una stradina isolata e vengono fermati da una pattuglia della polizia una situazione evidentemente terrorizzante nella georgia segregata del 1966 abbiamo visto una situazione potenzialmente terrorizzante anche nella mineapolis multiculturale del 2020 i due vengono fatti scendere dalla macchina con un pretesto una falsa accusa di contrabbando claude viene picchiato a sangue dai due poliziotti agnes viene invece violentata ripetutamente dai due ecco tutti e due sanno tutti sanno tutti coinvolti sanno che nessuno potrà parlare perché i giovani non sarebbero creduti da questa vicenda centrale da questa vicenda iniziale in realtà in modo centripeto si dipanano tutte le altre storie Agnes andrà via abbandonerà la Bucknell County per sempre salirà a nord e lì comincerà una nuova vita completamente diversa e alle vicende dei Miller si aggiungeranno pagina dopo pagina le vicende dei Vincent e le vicende dei Applewood e poi quelle dei Camphor e via via quelle dei Bellini via via si va componendo questa razza molto vasto ogni personaggio tiene la parola ed è protagonista all'interno delle sue pagine prima di passare il testimone a quello successivo e a muoversi sullo sfondo per cui per cui da protagonista diventa comparsa un po come dice osserva il Guardian in un pezzo sul libro un po come succede nella vita siamo protagonisti delle nostre storie e invece comparsi in quelle degli altri ecco i viaggiatori di Porter si legge come un quadro un quadro puntinista per cui ciascuna storia è un quadratino ben ben definito ben conchiuso e ben tratteggiato ma per guardare il disegno generale bisogna spostarsi da spostarsi all'indietro allora si vede si vede comparire davvero il disegno il disegno qui viene è la storia è una storia d'america veramente importante per capire quello che sta succedendo oggi attraverso le sue tensioni razziali le sue tensioni di genere attraverso le sue tensioni le sue migrazioni dal sud al nord attraverso le guerre attraverso la partecipazione di persone per esempio di colore e di donne vedremo anche all'interno delle guerre e di come queste non fossero così riconosciute di cui non si parla molto spesso ecco questo arazzo veramente viene arricchito dalla voce per questo ho parlato di polifonia perché dicevo Regina Porter è una drammaturga di formazione quindi ascoltiamo ciascuna di queste voci è davvero riconoscibile sulla pagina storia dopo storia sono particolarmente efficaci e particolarmente riusciti i ritratti femminili quello di Agnes Miller che ho menzionato che apre e chiude la vicenda ma anche quello delle sue figlie di Beverly e Claudia una di queste diventerà una studiosa shakespeariana e Shakespeare è davvero centrale è davvero una suggestione continua del racconto per la formazione che torna a ricordare di Porter ma perché c'è anche tematicamente come come uno dei personaggi che torna all'ambiletto in varie forme e anche perché ci racconta la letteratura come materia viva e come materia viaggiante il tempo fino a noi in particolare forse uno dei personaggi femminili più riusciti è quello di Eloise Dellini un'amica giovanile di Agnes Miller anche un giovanile amante la quale ha lo scopo allo sogno la sua vita di diventare pilota pilota di aereo nera lesbica allergica a qualunque forma di conformismo è evidente che il sogno di Dellini di Eloise piuttosto è piuttosto difficile da raggiungere nell'America dei sostitui di cristallo anni cinquanta invece ci riuscirà diventerà un pilota di caccia andrà in guerra andrà in Vieta tornerà riuscirà ad avere una perfetta emancipazione e una capacità di di azione una capacità di di realizzarsi nella sua esistenza con i suoi strumenti ecco tutti questi personaggi femminili sono perfetti modelli di di quella che oggi chiameremo l'agency l'agire la capacità di prendere la vita alle proprie mani e portarla dove si vuole e molto spesso nelle nelle questioni di genere oggi l'agency viene posta in contrapposizione alla quella che viene definita l'infantilizzazione che è il suo posto puro l'incapacità di agire l'incapacità di prendere nelle proprie mani la propria vita perché si è manipolati dall'esterno si è portati altrove non non si va con le proprie gambe ecco questa dicotomia fra agency tra l'agire e l'infantilizzazione è al centro del perlomeno ha nutrito di sé il movimento del me too e il movimento del me too e in particolare le sue conseguenze e i suoi eccessi sono al centro del dell'altro libro di cui di cui vorrei parlare che è appunto romanzo di mary gates key questo è il piacere fin dalla sua comparsa nella sulla scena americana nel 1988 con la raccolta di racconti bad behavior che poi è confluita insieme ad altri racconti suoi in un volume che abbiamo pubblicato qualche anno fa nel 2012 che ha per titolo questo che ha per titolo oggi sono tua ecco dicevo mary gates key fin da allora fin da questo esordio è stata considerata l'enfant terrible della letteratura americana una sorta di agente provocatore il cui modo di raccontare la femminilità e di raccontare anche l'oscurità di certe di certe pulsioni il cui modo di perorare l'agency femminile il cui modo di rompere continuamente le barriere la sua capacità la cui capacità di essere davvero sempre autenticamente trasgressiva ha fatto di lei ha spiazzato molto spesso sia i tradizionalisti che il femminismo più di lungo corso ecco tutti questi contrasti sono molto evidenti all'interno di questo volume di questo piccolo romanzo che in un centinaio di pagine davvero incendiarie raccoglie il tema del mito raccoglie le le giustissime sacrosante rivendicazioni e la sacrosanta il sacrosanto rovesciamento o tentativo di rovesciamento di equilibri granitici di squilibri granitici di potere tra i generi un modo un'abitudine così consolidata al sopruso un'abitudine così consolidata all'utilizzare il potere maschile per manipolare piegare a volte poi anche addirittura attaccare o abusare molestare le donne che dipendevano o che si sentivano dipendere da questi uomini in posizioni centrali ma insieme a questo anche gli inevitabili effetti collaterali di un movimento di questo tipo che rischia come una rete astragico di trascinare con sé a fondo anche una grossa altra fetta di umanità che semplicemente e forse colpevolmente è vissuta nel suo tempo un tempo nel quale alcuni comportamenti erano erano giudicati accettabili ecco il continuo tentativo di individuare quel punto quel punto di rottura quel limite le ragioni e le controragioni del me too sono prese e da mary gateskill e calate per una scrittura superba che è la sua dentro a un romanzo che è l'opposto puro del pamphlet perché non c'è una idea precostituita a cui giungere che ci viene fornita è un assetto continuamente variabile l'equilibrio di queste due posizioni mary gateskill ha dichiarato in un'intervista ha detto io non sapevo che cosa pensare del me too ho pensato di scriverci un racconto che mi sembra il modo migliore per affrontare una una scrittura letteraria e lo fa attraverso due figure due persone queen e margot che sono due editori e due editori molto affermati o comunque con un buon seguito molto stimati nel loro ambiente due persone di mezza età entrambe sposate entrambe molto strutturate nel loro nel loro ambiente legate da un'amicizia che è partita circa un ventennio prima quando i due si erano trovati a chiacchierare queen aveva espresso tutto il suo apprezzamento professionale per il talento letterario che il gusto letterario per per l'editoria prodotta da margot e e per suggellare questo apprezzamento aveva allungato una mano e provata a mettergliela nelle due regole margot aveva reagito con un no deciso anche proprio allungando una mano mettendogliela davanti alla faccia come si fa con i cavalli ci dice gateskill e l'aveva affermato il mio no era bastato affermarlo ecco questo pensiero che margot elabora il mio no era bastato affermarlo è causa per una donna della sua storia e della sua formazione una donna che ha avuto le sue battaglie di emancipazione molto volitiva al centro della sua posizione professionale quel pensiero è causa di imbarazzo perché evidentemente quella è la manipolazione che viene fatta continuamente dai detrattori del mitù da quelli che pensano e che dicono storicamente è una è una frase che sentiamo dire da tanto tempo in fondo bastava dire no ecco questo pensiero viene analizzato nel modo più intelligente e meno precostituito attraverso continui assetti di spostamento margot è molto critica nei confronti di atteggiamenti del suo amico queen è molto critica del modo nel quale lui sfrutta sostanzialmente emotivamente le donne di cui si contorna nonostante sia anche un grande profondo ascoltatore conoscitore delle persone che ha di fronte ma margot si rende anche conto che quell'uomo così intelligente vivace brillante così sensibile così generoso dell'ascolto dell'altro così anche manipolatorio e così pericoloso per le persone che gli stanno intorno è un uomo fatto di di genio in qualche modo i cui eccessi sono difficilmente separabili da questa identità seguiamo come lettori questo continuo spostamento di equilibri continuo spostamento di di assetti proprio fra le due posizioni in un modo davvero molto molto intelligente ma soprattutto che produce discorso cioè la cosa che mi sembra più interessante di questo libro è che si ha voglia di parlarne continuamente si ha voglia di darlo a qualcuno dopo lo che lo si è letto al nostro amico la nostra amica con la quale ci confrontiamo quotidianamente per sapere che cosa ne penso per farci un'idea definita perché è molto complicato seguire attraverso poi questi pochi accenni perché il libro è breve conciso ed è costruito con con grande con grandissima vita ecco direi che queste due forme di scrittura queste due donne così diverse davvero davvero agli antipodi fra di loro per la per la scrittura e per il tipo di tematica e tuttavia nella loro nella forza innovativa della loro scrittura nella loro contemporaneità trattano entrambe temi che hanno informato e infiammato il dibattito americano nei mesi precedenti alle lezioni che continuano a farlo sono forse lo sguardo che mi sento di dare più forte della casa editrice in audi della mia linea in cui lavoro per i medi a venire mi fermerei qui e lascerei la parola quindi al mio collega di in audi stile libero mario capello buonasera grazie buonasera a tutti grazie per il collegamento grazie per il tuo bellissimo e illuminante intervento e grazie per avermi passato la palla per avermi dato questa occasione di parlare di questo libro e di parlare in questa sede in questo spazio che è tanto più importante in questo periodo in cui gli spazi quelli veri quelli fisici sono venuti a mancare e di conseguenza tutti noi credo sentiamo il bisogno di un posto dove poter parlare di libri dove poter sentire qualcuno che parla di libri di libri belli e non è una cosa così scontata quindi grazie al circolo e alla fondazione del libro per l'opportunità che c'è stata data e allora io parlerò di harvey di emma klein il titolo di questo intervento è un titolo che mi è venuto un po come dire un po altisonante ma in realtà poi si capirà il significato di questo di questo titolo ed è il minotauro nel suo labirinto eh che sembra rimandare a Borges ovviamente ma in realtà si riferisce a una cosa molto più vicina a noi ehm meno meno astratta delle bellissime metafore di Borges e un paio di settimane fa eh l'abbiamo visto tutti ci sono state le elezioni americane le elezioni più contestate eh nella storia della democrazia americana ehm non entrerò nel merito però si sono viste delle molte fotografie una delle fotografie che hanno fatto il giro del mondo ehm che secondo me era eh rappresentativa e significativa con un valore simbolico potentissimo come poche altre era una fotografia che doveva rappresentare Donald Trump mh nel suo rifiuto totale di quello che era accaduto ed era una foto che lo mostrava eh dentro uno degli uffici della Casa Bianca eh si vedeva dalla finestra e sembrava guardare fuori con questa eh tenda appena nascostata a rivelare eh le stanze del potere letteralmente e c'era quest'uomo solo dentro la Casa Bianca che in quel momento sembrava assolutamente disabitata se non per lui e non sembrava l'inquilino della Casa Bianca o il detentore del potere della Casa Bianca sembrava prigioniero della Casa Bianca. In realtà Donald Trump non era prigioniero della Casa Bianca, non solo della Casa Bianca, era più prigioniero della sua visione del mondo, della sua incapacità di accettare la sconfitta. Quello che vedevamo in quel momento era un uomo sconfitto che non riusciva ad accettare che le cose erano cambiate, che le cose sono cambiate e stanno cambiando e si ostinava nella sua convinzione di essere innocente, di essere perfetto, di essere un vincente, di essere dalla parte giusta, nonostante tutto, nonostante anche le prove contrarie nel caso di Trump, i voti eh ricevuti in misura inferiore al suo avversario Joe Biden. Eh ma questo che cosa c'entra con con questo con questo romanzo? Eh qualche mese prima a giugno eh Emma Klein ha pubblicato sul New Yorker un racconto eh che si intitolava White Noise e dopo eh vedremo esattamente questo titolo ha un valore particolare perché ha scelto questo titolo. Eh è un titolo che ovviamente rimanda a un importante romanzo eh degli anni ottanta di Don De Lillo e era un racconto che provava a immaginare le ventiquattro ore eh precedenti al eh processo, all'inizio del processo di una persona eh di cui non sappiamo il cognome ma di cui sappiamo il nome Harvey che è facile identificare con uno dei personaggi che sono eh arrivati agli onori della cronaca in questi anni uno dei simboli anche del Me Too, dei simboli negativi del Me Too, Harvey Weinstein. In queste ventiquattro ore eh Weinstein eh deve fare i conti con quello che accadrà il giorno dopo e comincia a fare i conti con il fatto che la sua vita fino a quel momento è finita. Quel racconto Emma Klein l'ha sviluppato eh l'ha allungato l'ha dettagliato di più l'ha articolato l'ha riempito di ulteriore senso e di scrittura e di significato e ne ha fatto un romanzo breve eh in realtà in quella che gli americani chiamano una novella questa forma ibrida eh molto particolare e molto complessa che si trova a metà tra un racconto e un romanzo ma sugli aspetti formali arriveremo dopo. E che cosa racconta Harvey? Perché poi questa 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 novella ha cambiato anche titolo ed è diventato ha preso il nome del suo protagonista. Cosa racconta Harvey? Harvey racconta esattamente questo. Emma Klein eh decide di raccontare una persona che è stata per un lungo periodo il simbolo stesso del male e del del male inteso come il maschilismo quello che adesso viene definito tossico una persona che eh ha comunque commesso dei quelli che sono dei crimini e che ha eh praticato delle violenze psicologiche probabilmente non solo su molte donne e vuole raccontare le ultime 24 ore di questa persona prima che debba fare i conti con la giustizia e ne racconta la sconfitta. racconta la sconfitta e soprattutto l'incapacità di questo Harvey esattamente come Trump di accettare la nuova realtà in cui si trova. Harvey fino a quel momento eh ha sempre vissuto una vita iperprotetta iperprotetta dal privilegio dalla ricchezza dalle conoscenze è stato un uomo popolare è stato un uomo rispettatissimo è stato un uomo che ha dato per scontato il proprio privilegio fino al punto che il privilegio è diventata letteralmente l'ossigeno che respirava e non è letteralmente capace di immaginare una vita diversa. Tant'è vero che in queste ultime 24 ore lui sa che dovrà affrontare un processo in cui tutto sembra andare contro di lui e soprattutto un processo c'è già stato in qualche modo quello dell'opinione pubblica che l'ha già condannato ma lui questo non riesce ad accettarlo non riesce ad accettarlo lui è quasi certo anche se in realtà comincia a insinuarsi in lui una certa pressione una certa ansia è quasi certo che il giorno dopo tutto scoppierà come una bolla di sapone. E dove si trova Harvey? Un po' come il Trump prigioniero nella Casa Bianca Harvey è in una villa in una villa meravigliosa lussosissima messa lì a disposizione da un amico perché qualche amico anche se molti meno di un tempo gli è rimasto questa villa in cui ha un maggiordomo a sua disposizione tutti i gadget possibili anche una sala cinema è una villa che è stata scelta per tenerlo al riparo dalla stampa dei media e anche dal rumore del mondo anche dal white noise dal rumore bianco che circonda questa vicenda e queste in queste 24 ore non accadono molte cose non accadono molte cose non accade quasi nulla in realtà vediamo semplicemente Harvey vivere quello che fa in una giornata che lui si sforza di trasformare in una giornata qualsiasi ma non può essere una giornata qualsiasi si alza si sveglia guarda la tv guarda i notiziari ad un certo punto prova andare a vedere un vecchio film nella sala cinema riceve una visita della figlia e del nipote figlia con cui non ha mai avuto un grandissimo rapporto e che in questo ultimo periodo il rapporto è diventato ancora più ancora più difficile soprattutto è palese da quel poco che si dicono che non sanno comunicare non sanno in realtà parlarsi e soprattutto Harvey non sa chiedere aiuto e non sa non sa aprirsi e del nipote e nipote che in realtà lui aspetta anche con trepidazione salvo poi rendersi conto quando la figlia arriva che non sa come portare avanti questo rapporto che non sa che cosa letteralmente che cosa fare Harvey viene mostrato soprattutto nella sua fragilità nella sua debolezza quello che mi ha colpito di più di Emma Klein quando ho letto il racconto prima e quando ho letto questa novella e come questa autrice che peraltro è stata la stessa vittima di molestie e di un orribile trattamento da parte di un ex fidanzato che ha provato a estorcerle dei soldi e che è arrivato al limite del revenge porn e che quindi avrebbe avuto probabilmente tutto il diritto di scrivere un romanzo pieno di rabbia e di rancore e di sofferenza nei confronti della mascolinità tossica e quindi pieno di rabbia nei confronti dei rappresentanti più famosi di questo di questo fenomeno quello che mi ha stupito è stata la sua indulgenza la sua capacità che è quella degli autori degli autori veri di astrarre ed è ormai un luogo comune ma non per questo meno vero che i grandi scrittori scrittori di talento non giudicano mai i loro personaggi e nessuno davvero in questo periodo ha scritto di questi personaggi questi personaggi negativi con la stessa giustizia lo stesso sguardo equo di Emma Klein e ma Klein non interessa dipingere un mostro non interessa attaccare nessuno non interessa condannare quello che le interessa è mostrare quest'uomo nella sua umanità che poi vuol dire fragilità anche una anche una fragilità fisica Weinstein non è un uomo vecchio però è un uomo che si avvicina a essere anziano e che ha dei gravi problemi fisici e l'impressione leggendo il libro è che la vicenda che l'ha coinvolto abbia portato a una sorta di collasso fisico vi leggo un pezzo per farvi capire siamo poco dopo l'inizio a pagina 11 e Emma Klein scrive gli facevano un po paura le scale mochettate sentiva le caviglie vuote e fragili il braccialetto alla caviglia scivolava torno torno incasinandogli la propriocezione si aggrappò a Corimano meglio prendere l'ascensore d'ora in poi uno dei motivi per cui Vogel aveva sacrificato casa sua nell'ultimo mese quell'ascensore di merda e in questo breve frammento lo vediamo trasformato in un vecchio perché improvvisamente tutto è crollato e sta crollando anche il suo corpo e quindi ha dei dolori e dei dolori alla schiena per esempio l'incipit è così i sogni si erano più o meno interrotti si ritrovò sveglio immobile a battere le palpebre nella stanza buia le 4 del mattino rimase un attimo sotto il piumone senza muoversi aveva la maglietta incollata alla schiena sudori notturni il cuscino fradicio le lenzuola madide rotola sull'altro lato allungati sulle lenzuola gelide tieni gli occhi chiusi appena aperti gli occhi appena approdato saldamente nella terra dei vivi avrebbe trovato i grattacapi di ordine pratico ad aspettarlo un portapillole già pronto con i farmaci del mattino affiancato da una bottiglia d'acqua pigi a temperatura ambienti e poi ancora per far capire perché per come l'ho raccontato finora questo romanzo per quanto breve potrebbe sembrare astratto forse addirittura ideologico un romanzo che racconta di un cattivo i suoi problemi la sua prigioniera e la sua prigionia per quanto volontaria prima della prigionia dovuta eventualmente al carcere ma in realtà è un romanzo estremamente concreto fatto di dettagli di piccole cose e di gesti e la sua prigionia e viene raccontata in questo modo c'era stato un tentato omicidio senti dire nella propria testa come dallo speaker di un notiziario un attentato alla vita del presidente era stato un pensiero ricorrente negli ultimi tempi un tentato omicidio un tentato omicidio lui era sopravvissuto a un tentato omicidio perché come altro potevi definire quello che stavano cercando di fargli le risorse incredibili impressionanti che avevano schierato contro un unico uomo era soltanto un uomo soltanto un uomo con i calzini rossi e la maglietta troppo sottile un dolore al molare silistro e la schiena che stava praticamente per collassare tutte le cartilagini talmente consumate da ridurre la spina dorsale a una pericolante torre genga di dischi bastava una sola caduta e immaginava tutto quel ciarpane a cartocciarsi su se stesso come un edificio demolito era in zona pericolo sotto il tiro dei cecchini la faccia il punto d'arrivo di tutto il vetriolo possibile e immaginabile progetti di vendetta progetti per fare di lui un esempio per assassinarlo forse era così che si era sentito ford dopo che quella ragazza di menson aveva cercato di accorparlo gerald ford al pari di harvey era un sopravvissuto e insomma come si vede questo spero come si è sentito anche da questo pezzo questo in realtà è un romanzo fatto cercando di seguire questa persona nei suoi momenti di difficoltà e mi sembra anche un bellissimo passo anche in avanti nella carriera di emma cline emma cline ha esordito nel 2016 con un romanzo le ragazze che ha fatto furore in tutto il mondo è stato un grande successo raccontava la famiglia menson per quanto in una maniera romanzesca e qua non so se avete notato c'era una strizzata d'occhio una sorta di allusione al proprio romanzo precedente ed era un romanzo che in qualche modo aveva tutto tutta la forza la vitalità di un esordio di genio e che voleva raccontare in qualche modo il fascino anche torbido del male soprattutto nel periodo dell'adolescenza in qualche modo e mccline come capita tutti come è successo tutti è cresciuta invecchiata è passata attraverso anche a delle vicende molto dolorose ed è come se con la maturità avesse capito che non c'è solo il fascino del male che le persone così negative non sono soltanto affascinanti non sono neanche semplicemente orrende ma sono esseri umani sono esseri umani con un corpo con delle debolezze sono delle persone esseri umani magari orribili ma sempre come noi dei corpi che respirano che vivono e che soffrono e forse meritano anche una parte di indulgenza nonostante tutto almeno quella che può concedergli la letteratura è un altro passo in avanti che soprattutto mi sembra che possa essere un bellissimo viatico per la prossima raccolta di racconti di emma klein che uscirà a febbraio per renaudi stile libero che si intitolerà daddy ed è una raccolta di racconti straordinari molti dei quali anche anche in questo caso raccontano degli uomini in particolare maschi e in particolare complicati e in particolare negativi raccontati nella loro umanità colti nel momento della sconfitta quando il male è già stato compiuto non si può tornare indietro è il tempo di dare dei giudizi ma è anche tempo di riconoscere la propria debolezza e sono tutti racconti straordinari come straordinario questo hard day di emma klein tanto più straordinario perché è questa forma che forse la più difficile per qualsiasi scrittore che quella della novella che racchiude in sé la tensione continua del racconto e il respiro e l'articolazione del romanzo bene grazie per questa opportunità grazie per essere stati con noi e per avermi ascoltato ringrazio ancora tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa e buona serata e spero buona lettura a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti